Grande partecipazione ad Alba Adriatica al Flash Mob, I Love Alba, pensato e realizzato con turisti e vacanzieri, messo in scena nella zona delle concessioni degli hotel Sporting e Astor. Le persone sono state coinvolte dagli animatori e hanno dato forma in acqua all'imponente scritta con la parola Love, sostituita da un grande cuore, che ha avuto un effetto scenico decisamente accattivante, ma al tempo stesso di grande promozione. Abbiamo organizzato questo Flash Mob per promuovere il territorio di Alba Adriatica e di tutto l'Abruzzo. Praticamente abbiamo raccolto tutti i turisti che erano nella concessione dell'hotel Sporting e dell'hotel Astor, insieme anche a parecchi passanti. Siamo stati più di 200 persone che appunto nei giorni scorsi abbiamo organizzato questo Flash Mob chiamato I Love Alba, questa scritta comunque molto grande, più di 30 metri, sulla spiaggia dell'hotel Sporting e Astor. Non solo gli adulti, ma abbiamo raccolto anche tanti ragazzi e bambini che hanno partecipato soprattutto nella forma del cuore. che si sono molto divertiti. Un'iniziativa che è piaciuta molto e che potrebbe essere replicata anche in altri luoghi. Noi della Cronos Animazione siamo sempre attivi sul territorio e cerchiamo di comunque promuoverlo ed organizzare tante attività che possono piacere al pubblico. Voi che avete toccato con mano la presenza dei turisti, come è andata un po' la stagione estiva? Allora, dobbiamo dire che questa stagione ci spaventava un po' inizialmente, visto un po' il passato, quello che è successo, però è stata una bella, bella estate.